Il tetragrammaton è una parola greca che significa quattro lettere e si riferisce al nome ebraico di Dio, rappresentato dalle lettere IHWA. Queste quattro lettere sono considerate sacre e misteriose, tanto che nella tradizione ebraica non vengono mai pronunciate per intero. Ma perché tanto mistero? La risposta si trova nelle antiche tradizioni esoteriche e religiose che attribuiscono a questo nome un potere immenso. Il termine deriva dalla tradizione ebraica e la sua pronuncia è avvolta nel mistero. Le quattro lettere Yod-He-Vav-He formano un nome che è più di un semplice insieme di suoni. È una rappresentazione della divinità e del suo rapporto con l'universo. Nei testi ebraici antichi questo nome appare spesso e si ritiene che abbia un potere intrinseco legato alla creazione e alla vita stessa. Nella tradizione ebraica la pronuncia esatta del tetragrammaton è stata persa nel tempo. Questo perché nel corso dei secoli gli ebrei hanno sviluppato un profondo rispetto per il nome di Dio, tanto da evitare di pronunciarlo ad alta voce. Invece usano titoli come Adonai, Signore, o Hashem, il nome, quando si riferiscono a Dio. Questa pratica è nata dal desiderio di non usare il nome di Dio in vano, come prescrive uno dei dieci comandamenti. Le radici del tetragrammaton risalgono a un'epoca in cui le religioni politeiste dominavano il panorama spirituale del Medio Oriente antico. Tuttavia, il popolo ebraico si distingue per il suo monoteismo, la fede in un unico Dio. Questo Dio, conosciuto attraverso il nome Echavua, diventa il centro della fede e della vita del popolo di Israele. Nei testi più antichi, come il Pentateuco e i primi cinque libri della Bibbia, Yavua è spesso rappresentato come un Dio potente e personale, che guida, protegge e stabilisce un patto con il suo popolo. Il tetragrammaton appare frequentemente nella Bibbia ebraica, Tanakh, in particolare nei libri della Torah. È interessante notare che in molti manoscritti antichi, le lettere Yavua sono scritte in caratteri più grandi o in un tipo di scrittura diversa, per sottolineare la loro importanza e sacralità. Questo evidenzia quanto fosse centrale questo nome nella vita religiosa e spirituale del popolo ebraico. L'antico Israele trattava il nome Yavua con estrema riverenza. Solo il sommo sacerdote poteva pronunciarlo, e solo nel luogo più sacro del Tempio di Gerusalemme, il Sancta Sanctorum, durante Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. Questa tradizione di non pronunciare il nome era radicata nel timore di usare il nome di Dio in vano, una violazione del Terzo Comandamento. Col tempo, questa pratica ha portato alla perdita della corretta pronuncia del nome. Dopo la distruzione del secondo Tempio di Gerusalemme nel 70 Ducisto, l'uso del tetragrammaton divenne ancora più raro e circondato da tabù. I rabbini del Talmud evitarono deliberatamente di usare il nome per evitare profanazioni. Invece il nome venne sostituito da titoli come Adonai, Signore, o Elohim, Dio, nelle letture delle scritture e nelle preghiere. La mistica ebraica, in particolare la Kabbalah, sviluppò un'interpretazione ancora più esoterica del tetragrammaton, vedendo in esso un codice sacro che nascondeva profonde verità spirituali e cosmologiche. Quando gli ebrei iniziarono a tradurre i loro testi sacri in greco, come nella 70, la traduzione greca della Bibbia ebraica, emerse la questione di come rendere il nome Erwa. Nella 70, i traduttori optarono per la parola Kyrios, Signore, un termine che rifletteva la pratica ebraica di sostituire il tetragrammaton con Adonai. Questa traduzione influenzò anche il Nuovo Testamento cristiano, dove Kyrios divenne il termine usato per riferirsi a Dio e a Gesù Cristo. Il tetragrammaton ha trovato un posto anche nel cristianesimo. Sebbene il nome stesso non sia frequentemente usato nei testi cristiani, il concetto di Dio come rivelato a Mosè e la sacralità del nome sono riconosciuti. Nei primi secoli del cristianesimo, i padri della Chiesa discussero e rifletterono sul significato del tetragrammaton, vedendolo come una connessione diretta con il Dio di Israele, che era anche il Dio rivelato in Gesù Cristo. Alcuni manoscritti cristiani antichi continuità della tradizione. Il tetragrammaton non è solo un nome sacro nella tradizione ebraica, ha un ruolo importante anche nell'esoterismo occidentale. In molte tradizioni esoteriche, come la Kabbalah e l'alchimia, il tetragrammaton è visto come una chiave per comprendere i segreti dell'universo e della creazione. Ogni lettera del tetragrammaton ha un significato specifico e profondo e la loro combinazione è considerata una rappresentazione dell'energia divina che permea tutto ciò che esiste. La Kabbalah è una tradizione mistica ebraica che esplora i segreti della Torah e dell'universo. All'interno della Kabbalah, il tetragrammaton è uno dei simboli centrali. I kabbalisti vedono le quattro lettere del nome di Dio come rappresentazioni delle quattro fasi della creazione e dei quattro mondi spirituali. Azilut, emanazione, bria, creazione, yezira, formazione e assia, azione. Ogni lettera del tetragrammaton è quindi un elemento essenziale di questo processo cosmico. Yoda simboleggia l'emanazione pura, l'inizio del flusso creativo divino. He rappresenta la creazione, dove le idee divine prendono forma. Vav è l'unione e la connessione tra i mondi. Il ponte tra l'alto e il basso. He simboleggia la manifestazione finale, l'azione concreta nel mondo fisico. Questo schema offre una visione profonda di come l'energia divina fluisca dall'invisibile al visibile, dal potenziale alla realtà. L'alchimia, una pratica esoterica che cerca la trasformazione spirituale e fisica, ha adottato il tetragrammaton come simbolo di grande importanza. Gli alchimisti vedono nel tetragrammaton una formula per la trasmutazione, non solo dei metalli in oro, ma anche dell'anima umana. La sequenza delle lettere Ikawawa è interpretata come una guida per il processo alchemico, con Yoda rappresentante il principio maschile attivo, è il principio femminile passivo, Vav la combinazione o il matrimonio dei due, e l'ultimo è la manifestazione dell'Elisir o pietra filosofale. Questo riflette il processo di purificazione e perfezione che è al cuore dell'alchimia. La magia cerimoniale, una pratica che utilizza rituali e incantesimi per invocare forze spirituali, spesso incorpora il tetragrammaton come uno degli elementi più potenti. I maghi cerimoniali credono che pronunciare il tetragrammaton con il giusto intento e preparazione possa canalizzare l'energia divina e proteggere chi lo usa. Il tetragrammaton è spesso iscritto su talismani, amuleti e cerchi magici come forma di protezione e potenziamento. Questi praticanti vedono il nome come un collegamento diretto con il potere di Dio, capace di aprire porte spirituali e proteggere da influenze negative. Anche nei tarocchi, una pratica divinatoria che utilizza carte per interpretare il passato, il presente e il futuro, il tetragrammaton ha un posto d'onore. Alcuni mazzi di tarocchi includono riferimenti espliciti al tetragrammaton nelle loro immagini simboliche. Le quattro lettere del nome divino possono essere associate ai quattro semi dei tarocchi, bastoni, coppe, spade e denari, ciascuno rappresentante un elemento della vita e dell'esperienza umana, fuoco, acqua, aria e terra. Questa associazione fornisce una profondità mistica ai tarocchi, collegando ogni lettura alle forze divine rappresentate dal tetragrammaton. I grimori, antichi testi di magia che contengono incantesimi, istruzioni rituali e formule magiche, spesso fanno riferimento al tetragrammaton. In questi libri, il nome di Dio è utilizzato come parte di invocazioni e incantesimi per invocare angeli, demoni o altre entità spirituali. La presenza del tetragrammaton nei grimori evidenzia la sua importanza come strumento di potere e protezione. Gli autori di questi testi credevano che l'uso corretto del tetragrammaton potesse garantire il successo dei loro incantesimi e la protezione divina durante le operazioni magiche. Il tetragrammaton non è solo un nome sacro nella tradizione ebraica. Ha un ruolo importante anche nell'esoterismo occidentale. In molte tradizioni esoteriche, come la Kabbalah e l'alchimia, il tetragrammaton è visto come una chiave per comprendere i segreti dell'universo e la creazione. Ogni lettera del tetragrammaton ha un significato specifico e profondo e la loro combinazione è considerata una rappresentazione dell'energia divina che permea tutto ciò che esiste. Yod rappresenta il principio divino, l'energia creativa. È la più piccola dell'alfabeto ebraico, ma non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni. È considerata la scintilla iniziale della creazione, il seme da cui tutto deriva. Nella Kabbalah, Yod è associato alla sefira di Kokma, saggezza, che rappresenta l'energia creativa pura e non formata. La sua forma minuta suggerisce l'idea che la potenza divina possa essere contenuta in un minuscolo punto di luce, una singolarità da cui esplode l'intero universo. Questa lettera ci ricorda che ogni grande cosa inizia con un piccolo ma potente seme di possibilità. E appare due volte nel tetragrammaton, sottolineando la sua importanza. E rappresenta il respiro vitale, la forza che anima la creazione. In termini esoterici, è connessa alla sefira divina, comprensione, che rappresenta la capacità di dare forma e struttura alle idee originate dalla saggezza. Il respiro è simbolo di vita e di spirito, e incarna l'idea della rivelazione divina, il momento in cui l'energia creativa prende forma e diventa manifesta nel mondo. Questa dualità di essere il respiro e la rivelazione indica che la vita è un ciclo continuo di ispirazione ed espirazione, di rivelazione e comprensione. Vav è un simbolo di connessione e di unione. Nella Kabbalah, Vav è associata alla sefira di Tiferet, bellezza, che rappresenta l'armonia e l'equilibrio tra le forze divine superiori e le realtà terrene. La forma di Vav, simile a un gancio o a un chiodo, indica la funzione di legare insieme diversi elementi. Esotericamente, Vav simboleggia l'unione tra il cielo e la terra, l'integrazione del divino nel mondo materiale. Questa lettera ci insegna l'importanza dell'equilibrio e della connessione tra spirito e materia, mostrando come entrambe siano necessarie per la realizzazione dell'unità cosmica. La seconda apparizione di E nel Tetragrammaton completa il ciclo della creazione. Dopo la scintilla iniziale di Yod, la rivelazione di E e l'unione di Vav, la seconda E rappresenta la manifestazione finale, finale, il compimento del processo creativo. Questo E finale è spesso visto come una rappresentazione della Shekina, la presenza divina immanente nel mondo. Esotericamente, questa lettera chiude il cerchio, indicando che la creazione è un processo ciclico, in cui ogni fine è anche un nuovo inizio. La ripetizione di E sottolinea l'idea che la vita e la creazione siano continue, un flusso ininterrotto di energia e rivelazione. Insieme, le quattro lettere del Tetragrammaton formano un modello completo della creazione e dell'esistenza. Yod rappresenta l'inizio, la scintilla creativa. Hei è la rivelazione e la formazione. Vav è l'unione e l'integrazione del divino con il terreno. E la seconda E è la manifestazione e il ciclo continuo della creazione. Questo schema offre una visione del mondo in cui tutto è interconnesso, dove ogni parte della creazione è riflessa nelle lettere sacre del nome di Dio. Nella tradizione ebraica, ogni lettera dell'alfabeto ha anche un valore numerico. E il Tetragrammaton non fa eccezione. Yod ha un valore di 10, E di 5, Vav di 6 e la seconda E di nuovo 5. Sommando questi valori otteniamo 26, un numero che ha un significato speciale nell'ebraismo, rappresentando l'unità del divino. Alcuni studiosi vedono in questo valore numerico un riflesso della perfetta armonia e del bilanciamento delle forze divine nell'universo. Molti praticanti di discipline spirituali ed esoteriche usano il Tetragrammaton come strumento di meditazione. Visualizzare le quattro lettere e meditare sui loro significati può aiutare a raggiungere uno stato di maggiore insapevolezza e connessione con il divino. Ogni lettera può essere meditata singolarmente per comprendere le diverse fasi della creazione e dell'esistenza, o tutte insieme per percepire l'unità e la totalità del divino. Oggi il Tetragrammaton continua a essere un simbolo potente e misterioso. Lo troviamo in molte opere d'arte, testi sacri e pratiche esoteriche. Anche nella cultura popolare il Tetragrammaton appare come un simbolo di mistero e potere. Per esempio, lo si può vedere nei film, nei libri e persino nei tatuaggi. La sua presenza continua a evocare un senso di reverenza e curiosità, invitandoci a esplorare più a fondo il significato nascosto delle quattro lettere. L'arte contemporanea ha adottato il Tetragrammaton come simbolo di profondità spirituale e mistica. Artisti di tutto il mondo incorporano le quattro lettere nelle loro opere per rappresentare l'interconnessione tra il divino e l'umano. Pitture, sculture e installazioni spesso utilizzano queste lettere per evocare un senso di sacralità e mistero. Alcuni artisti usano il Tetragrammaton per esplorare temi come la creazione, l'unità dell'universo e il rapporto tra uomo e divino. Anche nella musica il Tetragrammaton ha trovato il suo posto. Molti musicisti, soprattutto in generi come la New Age, la musica meditativa e quella esoterica, utilizzano questo simbolo come ispirazione. Alcuni brani incorporano il suono delle lettere ebraiche per creare atmosfere sacre e riflessive. Inoltre, testi di canzoni possono riferirsi al Tetragrammaton per infondere un senso di spiritualità e profondità nei loro messaggi. Nella cultura popolare, il Tetragrammaton appare frequentemente come simbolo di potere e mistero. Nei film, nei libri e nei videogiochi, le quattro lettere sono spesso utilizzate per rappresentare antichi segreti o poteri mistici. Ad esempio, in alcune storie fantasy o di fantascienza, il Tetragrammaton è usato come chiave per aprire porte verso altri mondi o per svelare antiche verità. Questo simbolo affascina non solo per il suo significato religioso e spirituale, ma anche per il suo potenziale narrativo di mistero e potere. Sempre più persone scelgono di tatuarsi il Tetragrammaton come simbolo di fede, protezione o connessione spirituale. Per molti, portare il Tetragrammaton sulla propria pelle è un modo per sentirsi più vicini al divino e per manifestare visibilmente la propria spiritualità. I tatuaggi con il Tetragrammaton possono essere semplici rappresentazioni delle quattro lettere oppure elaborati disegni che integrano simboli aggiuntivi come l'albero della vita della Kabbalah o altri motivi esoterici. Nell'era digitale, il Tetragrammaton ha trovato nuovi modi di essere presente e rilevante. Applicazioni di meditazione e spiritualità spesso utilizzano questo simbolo come parte delle loro interfacce grafiche, invitando gli utenti a meditare su questo antico simbolo. Inoltre, sui social media, il Tetragrammaton viene condiviso in immagini, post e video che esplorano la sua storia e il suo significato. Questa diffusione digitale aiuta a mantenere vivo l'interesse per il Tetragrammaton e a connettere persone di diverse culture e background spirituali. Oggi, molte pratiche spirituali moderne incorporano il Tetragrammaton come strumento di meditazione, preghiera e protezione. Nei circoli di meditazione, le persone possono essere invitate a visualizzare le quattro lettere per connettersi con l'energia divina e raggiungere stati di coscienza superiore. Nelle pratiche di magia cerimoniale moderna, il Tetragrammaton continua a essere utilizzato per invocazioni e rituali di protezione. Questo simbolo rimane un potente strumento per chi cerca di esplorare il divino e di proteggersi dalle influenze negative. In ambito educativo, il Tetragrammaton è studiato non solo nelle scuole ebraiche e nei seminari teologici, ma anche in corsi di studi esoterici e mistici. Gli studenti vengono introdotti alle complessità del Tetragrammaton, imparando le sue molteplici interpretazioni e significati. Questo studio non si limita alla teoria, ma spesso include pratiche meditative e rituali che permettono agli studenti di sperimentare direttamente il potere del Tetragrammaton.